Cari amici, buon pomeriggio, è per me una gioia potervi invitare a questi due eventi che si terranno nel mese di settembre, il 20 e il 21 a Napoli e il 27 e il 28 a Milano. Avremo il piacere di avere il pastore Carter e il pastore Wilkerson, due uomini di Dio che hanno preso questa fiamma, questa testimonianza forte del pastore David Wilkerson e hanno continuato mantenendo un messaggio di santificazione e di verità, hanno continuato il percorso predicando l'Evangelo del Regno, guarendo e lasciando veramente un buon profumo sia dell'opera che stanno facendo da molti anni, questa opera che conosciamo tutti come World Team Challenger, sia anche per tutto quello che è il deposito ministeriale di questi setti di Dio. Per noi sarà un piacere poter vivere questo insieme ad altri pastori e altri leader perché l'incontro è mirato a incontrare appunto leader e formarli e dare equipaggiamento e questa è sicuramente sempre per noi una buona notizia, ci saranno molti pastori e leader italiani perciò sarà anche un momento aggregativo di unità e mi piacerebbe tanto che questo messaggio vi arrivasse non solo come un'informazione ma come un invito a invitare altri, altri pastori e altri leader. possa il Signore raggiungervi ovunque, siate con la sua benedizione e con la sua presenza. Il Signore vi avvolga e vi benedica.